Ora questo si è montato la testa come Achille Lauro. Fai uscire Polka che era una canzone rivoluzionaria per la scena musicale italiano e ora fai sta roba. No fraterno, io sono tipo una scatola di cioccolatini come direbbe Forrest, ok? Non sei mai quello che ti capita. Bello a tutti, sono Rosa Chemical e oggi sono qua da Noisy per rispondere ai vostri commenti sotto ai miei video di YouTube. Iniziamo da Polka. Io a mio padre che musica ascoltavi da ragazzino? Lui, Jenny Morandi e Ramazzotti. Spero mio figlio non mi faccia mai questa domanda. Io invece spero il contrario, perché devi insegnare a tuo figlio cultura italiana. Eh, noi ne facciamo parte. Sempre più schifato dalla fine che sta facendo la musica italiana. D'altronde è simbolo del progressivo decadimento culturale e sociale. Sono io. Alert. Rosa Chemical è stato palesamente incaricato dal governo russo di propagandare tramite questo video il benessere che consegue dal comunismo, di indicare un nuovo tentativo di espansione da parte russa in Europa attraverso vie mediatiche alternative. Meditate. Questo mi fa un po' paura. Però non c'è bugie non rilevate. La morte della musica e dei testi. Purtroppo è ben accompagnato. Che amarezza. Neanche troppo ben accompagnato. In realtà mi supportano solo. Di base le cose me le invento tutte io. Quindi sono io il problema. C'è un po' di canzone. Tra l'altro c'è scritto C E. Ok. C'è un po' di canzone in questo trash. Non sono trash fraterno. Sei tu che non capisci l'avanguardia. L'arte contemporanea. Ok. I commenti di Paul che sono finiti. Passiamo a quelli di Britney. Come ci si sente a far parte di quella generazione musicale che durerà il tempo di una pisciata. In quanto è il punto più basso che la musica toccasse. Io mi sento a mio agio. Il tempo di una pisciata è già un annetto. Comunque se pisci da un anno è un grande fraterno. E poi ci piace il pissing. C'è piacere con delle rime del genere ce ne vuole. Dai non su aggano queste rime invece. In Britney sono carine. Qui quella della gallina di bandera mi piace. Poi mambo è entrato dell'anno. Avevo bisogno di andare in bagno. Non avendo dei lassativi a casa questo video mi è stato molto utile. Proprio perché fa cagare. Grazie. Enterogermina. Non so posso dire i brand? Vabbè i fermenti lattici ci fanno i bocchini. Siamo noi il fermento lattico. Quindi tu non cagare perché noi non facciamo cagare. Capito? Perché tutti parlano del proprio organo genitale. E dipende quanto sei a tuo agio col tuo organo genitale. Io che sono a mio agio col mio organo genitale ne parlo e mi diverto. E le donne non solo apprezzano. Passiamo a sto giro ai commenti di Bohem. Prima fa trap aggressive. Diventa famoso. Musica di merda. Qua me la potrei anche un po' prendere perché c'è Bohem è tipo il mio pezzo preferito di sempre. Chiaramente senza contare quelli che usciranno in futuro. E perciò no. Sei diventato un po' ridicolo come dire. La brutta copia di Achille anche più tzozza. Ti rivolgo nei fit con la FSK. La brutta copia di Achille anche più tzozza mi fa godere. Perché ti sei ridotto a fare sta merda commerciale. Prima ti stimavo ora non più. Grazie anche a te. Se prima mi stimavi ora non più mi dispiace ti ringrazio comunque. Spero che ti farò ricredere. Adoro la gente che inizia o finisce le cose dicendo ecco. Ecco. Ora questo si è montato la testa come Achille Lauro. Cioè. Fai uscire Polka che era una canzone rivoluzionaria per la scena musicale italiano. E ora fai sta roba. No fraterno. Chi mi conosce lo sa. Io sono tipo una scatola di cioccolatini come direbbe Forrest. Ok. Non sei mai quello che ti capita. Ok. I commenti sono finiti. Bella a tutti. Grazie Fiorellini. Vi mando un bacino. Grazie Noisy. Grazie.